Ma volete dire che sono rosingato, vi ringrazio molto, che cane piccola, ma beve putti, grazie, grazie di cuore. Beh, 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 zio Tibia ha ultimato la sua missione, insieme al mio cucciolotto Colin, mi ha da stradlo, dai a farlo, saluta, su, non essere timido, come? Ah, andrei a salutarli uno per uno a casa loro? Bravo, 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 bussa e ti sarà aperto. E qui si è dunque, insieme ai miei figli di Piacolo, ogni male. No, 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 scherzo. Arrivederci dal prossimo incontro. Pessima notte e incubi loro per vostro sempre mortalmente affezionato zio Tibia. No, 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 no. No, 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 no. Siamo seduta. Siamo seduta. Siamo seduta. Grazie a tutti.